No, guarda, noi siamo tranquilli, siamo qui per lavorare per il campionato, la squadra non ha bisogno di essere distratta e questa è la cosa più importante perché il campionato, i giocatori e niente, abbiamo offerto un lavoro molto importante dalla parte della Fiorentina a Giancarlo e ci dispiace che non ha accettato questo ruolo perché è un ruolo super importante per il futuro della Fiorentina, di scoprire i futuri talenti della Fiorentina, poi di attaccare Rocco Commisso, proprietario, lo riteniamo non è una cosa abbastanza bella perché Rocco ha fatto di tutto e poi ovviamente è il datore di lavoro, però la cosa importante ragazzi io voglio dire questo che la squadra è la cosa più importante, la Fiorentina è la cosa più importante e oggi bisogna andare avanti perché ci dobbiamo preparare per il campionato e la Fiorentina rimane sempre, Giancarlo è la bandiera della Fiorentina, tutto quello che ha fatto Giancarlo l'ha fatto sulla verità, l'ha fatto sul campo, non abbiamo buttato Giancarlo fuori